Google Chrome, in questo tutorial, in questo video parliamo, sì, del browser più conosciuto, forse più famoso al mondo e delle funzioni nascoste, dei trucchetti che devi conoscere per essere più rapido, più rapida, più efficace, più efficiente, più produttivo, più produttiva. Insomma, ho una figata di video di quelli con un ospite che è da urlo e però, 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 prima di iniziare in 30 secondi, permettimi di presentarmi. Io mi chiamo Stefano e ti do il mio personale benvenuto in Automatiking, la prima e unica academy che, sì, in Italia e soprattutto in Europa, ti aiuta a mettere il pilota automatico al tuo business. Se non sai da dove iniziare, potresti essere confuso o confusa. Parti da qui, automatiking.com slash gratis, la nostra newsletter che ti manda, guarda un po', gratis ogni settimana, ben tre strumenti di automazione direttamente nella tua casella di posta elettronica. Ora, fatta questa introduzione rapidissima e freschissima, io ti dico di che cosa parliamo oggi. Ebbè, abbiamo parlato di Google Chrome, di trucchi, delle cose, ma perché proprio Google Chrome? Ma soprattutto, quali sono i sette trucchi da auuu, da urlo di cui parleremo in questo tutorial? E soprattutto, se resti fino alla fine, con un po' di pazienza, bonus e automazioni proprio per te, belle, in chiusura da ciliegina sulla torta. Se sei pronto o se sei pronta, io darei il mio più caro e più caloroso benvenuto alla mia amica, Deborah. Ciao cara! Ciao, ciao Stefano e ciao a tutti! Ciao, è un piacere. Grazie, ma molto bene, grazie. Prontissima per svelare i sette trucchi. Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Con Deborah abbiamo fatto diversi video, ti lascio tutti in descrizione, uno più caruccio dell'altro. La domanda delle domande per prima di iniziare è... Abbiamo parlato di Google Chrome, lo vogliamo spremere con un limone e capire queste funzioni nascoste, perché si nascondono poi? Perché, Deborah, perché si nascondono? Ce lo dirai alla fine, la prima cosa che ti chiedo è perché Google Chrome? Allora, Google Chrome intanto perché io penso che sia uno dei browser che abbia delle funzioni di sincronizzazione migliori rispetto ad altri. Poi in realtà, essendo anche uno dei più usati, è il primo che viene, diciamo, preso come esempio o comunque come risorsa finale dagli sviluppatori di applicazioni, estensioni e quant'altro. Quindi è uno strumento che permette anche di vedere in anteprima alcune cose, perché di solito gli altri browser vengono aggiunti in corso d'opera. Quindi queste sono, diciamo, le caratteristiche principali e poi ovviamente, essendo del mondo Google, diciamo che parla bene con gli altri strumenti della stessa famiglia, ecco. Assolutamente sì. A questo punto addentriamoci io, se vuoi, arrivo sul tuo schermo e andiamo a condividere quelli che sono, partiamo dall'inizio, le funzioni nascoste, i trucchi. Insomma, io partiamo dal primo. Che cosa hai individuato? Sì, intanto volevo parlare dei profili che, vabbè, in realtà non sono così nascosti, ma o non sono proprio usati o sono usati senza una logica dietro. I profili, intanto vi faccio vedere dove sono, qui in alto a destra, si possono creare e permettono di separare all'interno dello stesso browser, proprio estensioni, cronologia, preferiti, diciamo che sono comodi per creare sia quando lo stesso, degli ambienti diversi separati, sia quando questo browser viene usato da persone diverse, quindi immaginate all'interno della stessa famiglia, ci sarà il profilo di un genitore, il profilo di un altro, il profilo di un figlio, quindi non si fanno casini tra accessi e, diciamo, schermate, ma anche quando si lavora, magari il singolo professionista, lavora per diversi clienti, per evitare confusione con gli accessi e tutto quanto, si crea un profilo per ogni cliente. Quindi io andrò qui, nell'angolo in alto a destra dei Chrome, e in pratica si clicca su quella che è un'iconcina, può anche non esserci nulla a seconda di quello che state visualizzando come primo profilo, e da qui, che non c'entra niente con l'account di Gmail o comunque di Google, si va in basso e si clicca su aggiungi. A questo punto potrei entrare con un profilo di Google, ma non è assolutamente obbligatorio, se no posso continuare senza l'account. A questo punto, qua è solo una preferenza personale, metto cliente 1, perché sto ipotizzando di costruire un profilo che mi permetta di gestire tutti gli accessi del cliente 1, e vado avanti. A questo punto io esco da quello che era prima, ce l'ho sempre qua ovviamente, posso passare da un profilo all'altro, posso attivare la sincronizzazione, che adesso non lo sto facendo, quindi infatti mi dà un po' di errori, però tendenzialmente io posso sincronizzare questi accessi del cliente 1, perché se con questo profilo dovesse entrare dal cellulare, avrei gli stessi preferiti, accessi e così via. Quindi questo è un modo per mantenere separati gli ambienti, e mantenere quindi i preferiti, le estensioni, separati. Quindi questo è il primo consiglio che vi do, per non fare casino, non fare confusione. Primo trucco da urlo, il secondo! Allora, intanto, quando aprite, sempre magari inerenti ai profili, potete decidere quali schede aprire, non solo una, perché molti di noi, diciamo, impostano come pagina, come scheda principale che viene aperta, un sito web, o anche banalmente un motore di ricerca, eccetera. Ma non si può fare un pezzo in più, si possono aprire una serie di link, quindi immaginate appunto di aprire il profilo di questo cliente, e per questo cliente di solito usate il calendario condiviso, lo strumento di mail marketing, il canale YouTube, qualsiasi cosa, potete aprire in automatico, in sequenza. Come? In automatico, hai detto? Che bello! Esatto, si può impostare questa cosa facilmente, tra l'altro, nel senso che si va, una volta che si è all'interno del profilo giusto, si va sui tre puntini in alta destra, e si entra quindi nel menu del browser, si va sulle impostazioni, e si va sulla sottosezione all'avvio. A questo punto scegliamo quest'ultima voce, e mettiamo qui in sequenza tutte le schede che vogliamo aprire all'avvio di questo profilo, non solo una pagina, anche più pagine, più link, e tutto quello che ci serve. Una volta fatto, tutte le volte che entrerò in questo profilo con queste impostazioni, aprirò in automatico queste schede. Che bello, che bello, che bello, io direi a bomba, anzi a urlo sul terzo DAC, sul terzo trucco. Adesso vediamo la differenza tra preferiti ed elenco di lettura, è molto simile, ma vedrete le differenze. Allora, i preferiti, che si trovano comunque in tutti i browser, li avete già sicuramente usati, e si possono appunto aggiungere alla barra cosiddetta dei preferiti, appunto, di Chrome. Quindi cosa vuol dire? Che se io vado su un sito qualsiasi, mettiamo di aprire il corriere. Ok? Io poi posso, per metterla nella barra dei preferiti, posso trascinare l'URL nella barra, posso creare una cartella, posso da qui, adesso lo togliamo, cliccare sulla stellina e così via. Posso fare una serie di operazioni affinché questo link mi entri nei preferiti. Vi consiglio sempre, per un discorso di organizzazione, di creare delle cartelle e sottocartelle per gestire questi preferiti. La cosa che c'è in più, diciamo, c'è la possibilità di inserire questo link nell'elenco di lettura, che è una sorta di leggo dopo, perché adesso non ho tempo. Quindi come funziona? Io vado qui, sempre sulla stellina dei preferiti, e mi propone due opzioni. Preferito, che è quello che abbiamo appena visto, e aggiungi all'elenco di lettura. E vedete che qua si è accesa questa icona, perché appunto c'è in coda questo. Quindi io magari sto navigando, mi mandano un link, che però in quel momento non riesco a gestire. Questa è una funzione che fa da aggregatore, quella tipica che c'è in Pocket, in Instapaper, in strumenti simili. Quindi tenete presente che non ci sono solo i preferiti, ma c'è anche l'elenco di lettura, che viene alimentato manualmente dalle mie decisioni, degli articoli che sto vedendo, e li posso mettere lì parcheggiati. Una volta letto, Deborah, vengono cancellati dall'elenco di lettura? È una cosa che possiamo fare noi, nel senso possiamo, diciamo, ok, spuntarli, oppure, se andiamo come letto, oppure eliminarli con la X, proprio toglierli. Sì, 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 io ho, diciamo, il problema è che quando hai tanti, tanti link, diventa un po' come lunedì, lo leggo, lunedì mi stilo in paresse, comincia la dieta, quelle cose lì, c'ho una sfrag... li leggo, un elenco di lettura, dovrei stare una vita solo a leggere quei link, quindi ogni tanto vado, li butto via, così, o faccio finta di averli letti, per farmi bella figura con me stesso. No, no, capisco, il problema degli aggregatori in generale, sì, è che queste cose, queste azioni devono essere comunque abbinate a dei momenti di revisione, perché sennò davvero diventa il papiro. Esatto, esatto, esatto. Prossima funzione nascosta, trucco, hack, bellezza. Allora, è più o meno collegato ai preferiti, allora, magari state facendo una ricerca per un cliente, o avete trovato degli strumenti simili che volete, diciamo, mettere a paragone uno con l'altro, però in quel momento dovete chiudere le schede, insomma, fare qualcos'altro, quindi cosa potete fare? Potete in blocco salvare tutte le schede aperte nei preferiti. Come fare? Allora, vediamo, ipotizziamo di avere queste tre schede aperte, anzi, apriamone un'altra, così. Allora, questa via. Apriamo anche qualsiasi cosa. Adesso non ho niente. Ok, questa qua. Questa, perfetto. Allora, immaginate di avere queste schede aperte e di volerle salvare. Quindi cosa succede? Andate nella barra in alto del browser, diciamo quella non attiva, quella grigia, con il tasto destro del mouse, fate questo, aggiungi tutte le schede ai preferiti. A questo punto potete creare, magari per ordine, una sottocartella con, che ne so, ricerca 1, salvare. Ve la mette qui. E qui avrete tutto quello che è aperto in quel momento nel browser. Quindi, magari mettete cliente, nome del cliente, poi ne avete un altro, fate un secondo blocco e così via. Quindi in un secondo avete tutta la cronologia delle schede e la cosa bella è che voi potete chiuderle senza perdere nulla. Nel senso che qua rimangono, ovviamente, perché le avete salvate, le schede che c'erano prima. Quindi anche un discorso per risparmiare memoria, per far andare meglio il browser, per non farlo incartare, eccetera. In un secondo salvate tutto quello che avete aperto. Sì, infatti, io questa funzione la utilizzo quando devo fare tante registrazioni insieme. Di solito io ho una scheda con tipo 20, una finestra con 20-30 schede all'interno. Le salvo tutte quante per poi ritrovarle dopo. Ma la cosa figa, Deborah, se clicchi sulla cartellina e sulla sottovoce con il tasto destro di nuovo, le puoi aprire in una nuova, le puoi aprire nella stessa finestra in cui ti trovi adesso, le puoi aprire in una nuova finestra, ma le puoi anche aprire in incognito ed è molto interessante come tipo di funzione se, per esempio, stai facendo delle ricerche, non vuoi, delle ricerche, per esempio, su Google, e non vuoi inquinarle con risultati, diciamo, tuoi locali. Quindi è molto, molto utile come tipo di funzione. Ovviamente poi le puoi anche raggruppare in schede, ma questo poi lo vediamo in un altro video, un'altra volta. Numero 5, se non ricordo male, siamo? Sì, esatto. Allora, con il numero 5 vi volevo solo, diciamo, mostrare come si selezionano, nel senso che queste schede possono essere selezionate in maniera multipla. Quindi con il tasto Shift della tastiera andate a prendere, appunto, queste schede, quelle, non tutte, ma quelle schede che volete raggruppare in un certo senso. Quindi una volta che l'avete fatto, che avete questa selezione attiva, cosa potete fare con il tasto destro? Potete aggiungere in blocco l'elenco di lettura che abbiamo visto prima, creare un gruppo all'interno del browser, che vuol dire che Chrome, in pratica, vi crea delle cartelle, in realtà, virtuali, mettiamola così, dove vengono, diciamo, aggiunte le schede che avete selezionato, oppure in blocco potete sganciarle dalla finestra attuale del browser per aprirle in una finestra separata. Quindi questo vi dà modo di, in presenza di tante schede, se fate parte del gruppo di persone che tengono aperte 2500 schede, le potete filtrare per fare più ordine, perché alla vista ha bisogno di meno cose possibili, anche proprio per un discorso di energia, a mio parere. Sì, sì, io di questa funzione, quello che funziono, quello che utilizzo di più è o le porto tutte quante fuori, perché magari sto lavorando su una cosa, me la porto fuori e me le chiudo volta per volta, quindi proprio nel flusso quotidiano, oppure proprio le raggruppo, perché magari le aggiungo tutte quante, sto facendo una ricerca, sto facendo uno studio, sto facendo una qualsiasi cosa, le raggruppo tutte quante, e la funzione di gruppo appunto è una specie di cartella tra le varie schede che hai aperto, è una specie di cartella che ti crea, come diceva Deborah, molto utile, molto carina come tipo di funzione e pratica soprattutto. Numero 6 o 7? A che siamo arrivati? Numero 6, manca pochissimo. La numero 6 in pratica vi consente, sempre in ottica magari di automazione, di velocizzare l'apertura di alcune, soprattutto estensioni del browser, vediamo come abbinare le nostre abbreviazioni da tastiera alle estensioni che usiamo magari in modo più frequente. Quindi come fare? C'è un link, poi magari questo non so se possiamo metterlo magari nei... Lo mettiamo in descrizione? Esatto. Ma certo. Che è quello delle abbreviazioni da tastiera, in pratica qui vi propone tutte le estensioni che avete installato appunto nel browser, nel profilo stiamo parlando, quindi in presenza di più profili dovrete fare questo lavoro per tutti i profili che vi interessa diciamo tracciare in questo modo. Quindi ad esempio se avete l'estensione di Pocket potete modificare diciamo l'abbreviazione, mettere una combinazione di tasti che preferite, ad esempio Alt, Shift, P ma può essere qualsiasi diciamo abbreviazione magari non proprio comune perché sennò magari va in conflitto con altre che avete attive. Quindi cosa vuol dire? Che se voi siete nel browser, premete la combinazione dei tasti impostata, vedrete che vi aprirà o comunque vi attiverà quella estensione che avete appena diciamo impostato tramite questa questa abbreviazione di tasti. Mi consenti Deborah? L'automazione dell'automazione, io di solito appunto perché va creato una combinazione di tasti che non è comune contro il mela P perché sennò ti si apre la stampante oppure quello che sia, devi creare una cosa un po' più particolare. Io utilizzo uno strumento di automazione che si chiama Stream Deck. Ti lascio un video qui in alto e in descrizione che ho fatto da poco dove ti faccio vedere come puoi lanciare semplicemente premendo un tastino come puoi lanciare un'automazione, uno script, in questo caso un hotkey che è un elenco, come dire, una scorciatoia da tastiera ed è la stessa cosa che utilizzo in questo momento guardandoti negli occhi e facendo, cammando la grafica di StreamYard attraverso uno shortcut, uno hotkey o come si chiama, come puoi, insomma, una scorciatoia da tastiera. Molto, molto utile, molto, molto carino se vuoi automatizzare questo tipo di funzione. E truccone numero sette! Il sette, allora, in realtà non è un trucco ma è una comodità nel senso che se siete soliti a lavorare con della musica di sottofondo, ad esempio, questo è un video di YouTube con della musica che sta andando poi io mi sposto sulle altre schede se volessi cambiare qualcosa non devo tornare su YouTube perché magari chissà dov'è vado qua e c'è il player della musica dove posso attivare i sottotitoli posso andare avanti indietro e così via quindi io senza dover necessariamente andare tornare sulla scheda di riferimento dove sta andando la musica posso gestirla da qua quindi questa è un'altra comunità in più che permette questo questo browser. Sì, io utilizzo molto la funzione scusami Deborah se ti interrompo la funzione del picture in picture che ti si apre da quella scheda lì molto molto utile per evitare di tornare avanti e indietro magari stai guardando una cosa la stai sentendo intanto stai prendendo appunti stai sistemando delle cose quella funzione lì è comodissima. Confermo e poi volevo mi permetti di dire un jolly ma noi dobbiamo guarda è da contratto che noi facciamo sempre qualcosa in più nei nostri video è proprio è da urlo quindi assolutamente sì in pratica una cosa che magari fate già ma io è una funzione che suggerisco anche perché è talmente semplice se andate nelle impostazioni e se non vi ricordate vabbè soprattutto dove sia una cosa andate qua nella barra e scrivete l'argomento che vi interessa no? oh mamma mia mi sono persa ok download se andate nella sezione dei download accertatevi che sia attivata questa chiedere sempre dove salvare il file prima di scaricarlo è vero che c'è sempre una cartella di default ok però questa cartella di download se viene presa come predefinita di solito finisce come un'enciclopedia di roba che è infernale poi da consultare se invece chiedete fate in modo che vi venga chiesto dove volete mettere quel determinato pdf immagine che state scaricando in quel momento mantenete in origine l'organizzazione e l'ordine quindi accertatevi che ci sia questa funzione attiva che bello che bello che bello amici amiche automatiker per favore aiutatemi con un like con un mi piace sotto questo video e devono essere tanti 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 per ringraziare debora del tempo che ci ha dedicato di questi fantastici hack che ci ha presentato delle scorciatoie in tutti i sensi debora davvero davvero come sempre è stato un piacere grazie 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 a te grazie a tutti invito invito i nostri amici amici automatiker qualora gli abbia stuzzicato gli abbia sfiziato questo video e vogliono magari scoprire il mondo delle automazioni intese come strumenti come strategie e come figate guarda che c'è una bella automazione dell'algoritmo di youtube che si chiama iscriviti al canale e attiva la campanella sai che fa questa automazione debora guarda un po' se ti iscrivi al canale e attivi la campanella ogni volta che pubblichiamo un video che ti può aiutare a vendere di più senza stress grazie all'automazione di business guarda un po' lui te lo notifica e quindi tu lo puoi sapere lo puoi scoprire lo puoi sfruttare come dicono qui in Spagna te lo puoi godere che bello senti debora grazie 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 ragazzi se avete magari degli altri trucchi o degli altri insomma delle cosette che volete mettere qui sotto nella sezione dei commenti fino a che youtube ce la la gratis è una cosa buona e giusta magari nella tua esperienza nelle tuoi trucchetti che relativi a google chrome magari ce le lasci qui sotto oppure se hai delle domande specifiche io e debora magari ti aiutiamo a rispondendo ti aiutiamo a fugare quei dubbi debora grazie ancora grazie a tutti a presto ciao a presto un abbraccio forte dalle canarie ti lascio un altro bonus interessantissimo dove abbiamo una playlist su google chrome con le estensioni estensioni per vendere di più estensioni per essere più produttivo o produttiva e estensioni che ti automatizzano il business che vuoi di più cliccaci e le trovi qui ciao 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 ciao